Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Oggi la nostra giornata era allegrata dalla festa del Santissimo Nome di Maria. Questo nome è stato assunto nella scrittura come un prototipo, perché è il nome della Madre del Figlio di Dio, in cui il Signore ha trovato la sua compiacenza. E quindi oggi la Chiesa celebra quella che noi possiamo chiamare l'onomastico della Madonna. Il suo nome, per la verità, ha tante significate secondo il modo di esaminarne le radici circiziane oppure siriache e altre. Questo nome è il nome Benedetto, Benedetta tu fra le donne, dice l'angelo. Anna Madonna, Benedetta tu fra le donne. La Chiesa ci esulta nella celebrazione di questo santo nome che ha portato la Madre del Figlio di Dio e anche la nostra Madre. E nella liturgia odierna, fratelli, la Chiesa ci fa contemplare il nome anche di Gesù, la persona di Gesù. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci, perché dice Gesù, nessuno viene a me se non è mosso dal Padre mio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei popoli, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguida. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premia, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa ci mette davanti il mistero di Gesù. Nel Vangelo ci presenta l'episodio di Gesù che chiama dodici discepoli e li nomina apostoli, cioè inviati da parte sua. Persone che non fanno da ambasciatori, ma che prolungano la missione di chi li invia, a cui loro sono particolarmente legati attraverso il dono dello Spirito Santo. L'apostolo quindi, a differenza dell'ambasciatore che non porta pena, si carica invece del mandato che riceve dal suo Signore nell'annunciare, nel comunicare il dono di Dio. Infatti, questo è il significato di apostolo, inviato, mandato. Mandato da chi? Mandato da Gesù Cristo a portare l'annuncio della salvezza e a comunicare il dono della salvezza. Ecco allora che l'apostolato cristiano, fratelli, non è semplicemente una propaganda, no, è condurre gli uomini a incontrarsi con Gesù Cristo nella fede, nello Spirito Santo, a incontrarsi con Lui, a ricevere da Lui il dono della salvezza e a fare comunione con Lui. Ieri, San Paolo, nella prima lettura tratta dalla lettera ai Colossesi, parlava della rivelazione di un grande mistero, Gesù in noi, Cristo in noi. Non c'è un messaggio da credere, c'è una persona da accogliere, c'è la vita del Figlio di Dio da accettare nella nostra vita. E nel brano che leggiamo oggi, l'apostolo continua ad approfondire questo mistero d'amore. Dice infatti, sempre dalla lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 6, 15, Dice, come avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede. Vedete, qui non si parla di dottrina alti, si parla di persona, c'è una relazione. Lo Spirito Santo ci mette in relazione con Gesù. Ricordiamo che noi siamo fatti di spiriti, di animo e di corpo, Se i corpi entrano in relazione tra loro per via di contatto visivo, uditivo, sensibile, ma sempre di contatto fisico, le anime invece, le realtà spirituali, entrano in relazione per via di presenza, per via di comunione, unione di vita, quindi comunione. Perciò, camminate in Gesù Cristo, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Per questo il nome di Gesù, fratelli, deve essere sempre nel nostro cuore, il riferimento a Gesù Cristo. Tu appartieni a Gesù Cristo, nel battesimo sei stato consacrato a Gesù Cristo, è Lui vita della tua vita, e Gesù la presenza di Dio in te. Fate attenzione, che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri. Perché questo? Perché il pensiero umano non può penetrare quella della ricchezza dello Spirito di Dio. Cristo in noi, la presenza di Dio in noi. La filosofia si basa su concetti umani, su relazioni umane, esperienze umane, e quindi non può entrare nel profondo del mistero di Gesù Cristo. In Gesù, dice San Paolo, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Incontrando Gesù, tu incontri Dio, incontri il Figlio di Dio, ricevi lo Spirito di Dio, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Lui, Gesù, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza e al di sopra degli angeli, di qualunque corralca angelico, a nessuno degli angeli Dio mai ha detto, scrive la lettera agli ebrei, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Di Cristo, infatti, si dice, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, è l'ogge di Dio l'eternità. In Lui voi siete stati anche circoncisi, la circoncisione era il segno dell'appartenenza al popolo di Dio, ma il cristiano non praticava la circoncisione, che era un segno nella carne. Se la circoncisione era la spogliazione di un pezzetto di membrana, la circoncisione spirituale in Cristo è la spogliazione di ogni elemento mondano per appartenere completamente a Cristo. Perciò, non siete stati spogliati da voi stessi mediando una circoncisione fatta da mani di uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo, con Lui, sentite che bello, sepolti nel battesimo. Siete morti e sepolti con Lui. Con Lui siete anche risuscitati mediante la potenza, la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi. Ricordiamo sempre la fede in Gesù. Non ci procura il perdone di Dio, ma ci guarisce, ci toglie la colpolezza, ci restituisce l'innocenza, ci assimila a Gesù Cristo e in Cristo noi siamo salvati, siamo i figli di Dio. Quindi, Egli toglie di me il documento scritto contro di noi con le prescrizioni e questo documento c'era contrario. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Signore Gesù, Tu sei la nostra vita, Tu vivi in noi. Riveleci le profondità, le ricchezze di questo mistero che ha portato nella storia tanti martiri a preferire di perdere la vita piuttosto che perdere te che sei la salvezza eterna. Sei la ricchezza di Dio in noi. Oggi, per intercessione della Tua Santa Madre, di cui celebriamo il Santissimo Nome, riempie la nostra vita di Te e senti vero Dio, vero uomo, a Te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Madre Santissima, il Tuo dolce nome risuoni sempre nella nostra mente, nel nostro cuore e sulle nostre labbra e ci ispiri quella fiducia che ti ha portato ad essere scelta tra le donne per essere la madre del Figlio di Dio. A Gesù, Tuo Figlio, nostro Signore, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa gioia, fratelli, rimanga sempre nei vostri cuori. Ricordate le parole dell'Apostolo sovrabbondate nel rendimento di grazie. In ogni cosa rendete grazie, qualunque cosa avvenga, rendete grazie a Gesù per mezzo di Lui, a Dio Padre, nello Spirito Santo. Amen.